Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana approva la legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026. È stata una lunga maratona nell'aula del Parlamentino della Toscana, con sedute che si sono prolungate fino a notte inoltrata. Acceso e aspro il confronto tra maggioranza e opposizione con l'approvazione finale del maxi emendamento presentato dal Presidente Gianni, che prevede un innalzamento delle aliquote IRPEF relative alla Regione Toscana per recuperare circa 200 milioni di euro da destinare alla copertura dei servizi in sanità. Proprio su questo punto c'è stato il confronto con l'approvazione che ha visto il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico e il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Dopo varie polemiche e confronti nel pomeriggio e in questi giorni dei Consiglio, Italia Viva non ha partecipato al voto. La sanità toscana ha un bilancio di spesa annuale di 7 miliardi e 595 milioni, ha precisato il Presidente in aula. Alla Toscana mancano circa 400 milioni ogni anno e la manovra approvata prevede un maggior introito dall'aumento dell'addizionale IRPEF per circa 200 milioni e la quota che rimane sarà trovata da tagli ai vari settori e miglioramenti della spesa, da cui si dovranno reperire nei primi mesi del 2024 ben 127 milioni. Ma oggi possiamo dire in Toscana di aver salvato la sanità pubblica. Quello che chiaramente ormai il Governo vuol fare è quello di indurre, tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il Ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre, restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quelle che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo, l'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione come quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre, a queste risorse. Poi quando è emerso che tutto questo non avveniva, allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale ILPEF. Ma è un unatantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta ILPEF. Naturalmente quello che è emerso in questo dibattito è il vuoto di proposte dell'opposizione. Tanti discorsi ma se io dovessi oggi mantenere e avere un'idea di come ridurre le spese in sanità dagli interventi dell'opposizione troverei lo zero assoluto. E quindi ho da questo tratto le conseguenze che abbiamo fatto bene a intervenire con tempestività ora. Se non fossimo intervenuti ora con tempestività probabilmente avremmo avuto un commissariamento quando si fanno i conti, cioè il 30 di aprile. E quindi meglio una posizione impopolare ma che salva la sanità pubblica toscana che seguire il percorso demagogico e populista che ci è stata data dall'opposizione. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio. Forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista. Una questione oggettiva che noi abbiamo insieme al collega Sguanci rimarcato dal primo giorno di questa discussione. Noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica una tassazione molto forte nei confronti di cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. A un certo punto di queste trattative in queste giornate si è entrati nel merito, non si è arrivati laddove noi volevamo. Perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona, un professionista che guadagna 85 mila euro, non debba pagare niente perché ha un regime forfettario, non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono una classe media, quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%. Questo ci ha consentito di disentire su questa misura. Questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva, importante nella maggioranza, l'abbiamo dimostrato facendo approvare nel DREF un atto importantissimo che per esempio sul collegamento fra Siena e Roma porta fondamentalmente un'innovazione straordinaria di collegamento ibrido. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo votato in termini di bilancio e di legge di stabilità tantissimi articoli che riguardano investimenti, opere pubbliche riguardo i nostri comuni da Firenze ai comuni del territorio senese, aretino e pistoiese e non solo. Lo abbiamo fatto nelle misure di governo per quanto riguardano le imprese, l'economia, l'agricoltura. Noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che dita da viva ci ne sia bisogno perché questo senso critico e questo spirito porta a raccontare la verità. Noi non siamo per aumentare le tasse, abbiamo messo in campo proposte alternative, noi eravamo e rimaniamo convinti che il credito debba essere riscosso. Sbaglia il governo Meloni a non assumersi questa responsabilità e a costringere le regioni a fare queste manovre. Quindi noi avremmo continuato a fare la battaglia nei confronti del governo Meloni. Mi fa un po' strano che siamo gli unici a denunciare le mancanze di un governo che non mantiene gli impegni con i cittadini. Molto critiche le opposizioni che hanno chiesto con i loro interventi in aula di reperire le risorse razionalizzando la spesa, migliorando l'efficienza in sanità e riducendo gli sprechi. Accogliamo in maniera negativa con un netto no all'aumento delle tasse, diciamo giù le mani dalle tasche dei toscani. Vedete la favola che ci ha raccontato il presidente Gianni quest'oggi in consiglio regionale verte su due punti. Il primo è che non vogliamo tagliare i servizi alla sanità, una sanità di eccellenza per cui abbiamo deciso che l'unica strategia è quella dell'aumento delle tasse. Ecco io credo che la sanità oggi della Toscana, che la sanità sia un'eccellenza, è una favola, lo era negli anni precedenti. Non ci prendiamo in giro. Oggi i problemi sanitari, le liste d'attesa, la mancanza di medici, la carenza di personale, il tema di tantissime sale operatorie che sono già state chiuse anche per una spending review della sanità toscana, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. Quindi la motivazione di aumentare le tasse per tenere in piedi un servizio eccellente non regge, perché se veramente il servizio fosse stato eccellente, non ci fossero stati problemi su operazioni, liste d'attesa, ospedali, pronti soccorso completamente intasati, forse la nostra valutazione anche sull'aumento delle tasse sarebbe stata diversa. Ma siccome la sanità non funziona, la sanità toscana è al collasso, non possiamo accettare che si mettono in mano ulteriori tasse ai toscani. E seconda motivazione, è troppo facile la favoletta, in cui si racconta che tutta la responsabilità è del governo. Allora in primis il presidente Gianni ha sbagliato strada, per arrivare a Siena, permettetemi un racconto, ha preso la Fepilì, perché invece di andare dal ministro Schillaci doveva andare dal ministro che si occupa di economia e finanza e questo invece lui ha fatto le giratine dal ministro Schillaci senza portare nulla a termine, ma semplicemente perché non è il ministro competente sul tema appunto delle economie e delle finanze. Noi voteremo sicuramente contrario all'innalzamento delle tasse perché non riteniamo che ne debbano fare le spese i cittadini toscani di una mala gestione della giunta regionale. Ci sono tantissimi sprechi che potrebbero essere eliminati, non ci risulta, non vi faccio gli esempi perché sono 15 centimetri di documenti, tengo solo a precisare che non si dovrebbe mai dare 15 centimetri appunto di documenti da controllare in cinque giorni perché è ovvio che il lavoro viene fatto in modo approssimativo. Comunico soltanto che la Corte dei Conti prende sei mesi per controllare il bilancio, a noi ci è stato dato cinque giorni. Per quanto riguarda questi 400 milioni di buco che mancano dal bilancio della sanità, credo che dovrebbero essere evidenziati in bilancio, non ci risulta che sia stato fatto e mi domando come sia possibile perché chiunque legga il bilancio, ammesso che abbia tempo di farlo e voglia, non legge da nessuna parte che mancano 400 milioni, si legge soltanto sui giornali. Quindi c'è qualcosa che non torna. Se c'è veramente un credito anche di difficile esigibilità andrebbe indicato in bilancio e messo da un fondo di svalutazione di crediti dall'altra, io immagino. Non si capisce come mai invece non è stato fatto. Ci sono pareri discordanti fra i tecnici. Il dirigente in Commissione Controllo ha detto che non era stato messo e indicato e invece in un'altra commissione il Presidente Ciani, assessore al bilancio, ha detto che era stato messo per 200 milioni. Quindi mi capite che c'è un modo diverso di interpretazione di un bilancio. Vede, quando si parla di bilancio contano i numeri e i numeri non sono di destra né di sinistra. Nel 2019 il governo Conte e Speranza alla Regione Toscana dal Ministero della Sanità veniva trasferito per la sanità 6 miliardi e 866 milioni di euro. Nel 2023 dal governo Meloni Schillaci alla Toscana per la sanità sono stati trasferiti 7 miliardi e 933 milioni, vale a dire 1 miliardo e 100 milioni in più dell'ultimo anno pre-Covid che era appunto il 2019. 280 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. E la scusa dell'inflazione è una scusa che non regge. Tenete presente che oltre il 50% del bilancio regionale in sanità è un bilancio destinato agli stipendi, medici, infermieri, operatori sanitari, dipendenti e amministrativi. Che lì dentro ci sono i costi per le prestazioni del privato accreditato che sono fermi dal 2011. Che i prezzi dei farmaci sono stabiliti da AIFA e da EMA e non subiscono l'inflazione. Quindi possiamo dire che oltre il 50% di la spesa sanitaria non è soggetta ai costi inflattivi. Conseguentemente la scusa dell'inflazione è una scusa che può tornare bene ma non è una giustificazione che giustifichi uno sforamento di spesa di oltre 400 milioni che porterà la regione toscana a aumentare le tasse che graverà sulle tasche dei cittadini toscani. Intanto occorre dire che è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte. Vale a dire chi più ha gli chiediamo uno sforzo per far sì che la sanità toscana che è una sanità considerata di eccellenza anche dalle indagini ministeriali possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza. Posso fare alcuni esempi, la cura dei denti fatti dalla sanità pubblica, lo screening neonatale, il codice rosa, tutta l'esenzione dal pagamento di qualsiasi ticket da parte dei disoccupati sotto l'ISED 18 mila euro. Ecco, noi non possiamo permetterci che la cura dei cittadini e delle cittadine toscane di chi sta in Toscana regredisca, ma anzi abbiamo bisogno semmai di migliorare. Di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il payback che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato. Noi avevamo poche altre scelte, poteva essere quella di mettere il ticket sulle ricette, quello di aumentare i medicinali. Sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha bisogno di curarsi perché ha meno salute. Potremmo rinviare questa decisione come ha detto qualcuno e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, passata la fine dell'anno noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti.